ciao a tutti benvenuti in un nuovo video vi parlerò di una nuova tinta per capelli che ho avuto occasione di provare per ben tre volte in verità una riscoperta bene parlo nello specifico ma prima sigla ciao a tutti benvenuti in un nuovo video oggi ho fatto la tinta in casa non commenti per quanto riguarda lo stato del taglio perché io non li taglio più proprio perché voglio arrivare a farli scalati quindi non voglio sentire commenti perché quando un taglio è lunga è normale che sia in queste condizioni ho fatto la tinta in casa è una tinta professionale che avevo provato da due parrucchieri da cui è andato a fare il ritocco in emergenza della radice la colorazione è in oa di l'oreal professionelle in questo caso io ho scelto la colorazione 7 43 7 e 43 è appunto un biondo ramato dorato voi ben sapete che in altre linee della royal il biondo dorato ramato corrisponde a un'altra colorazione un po più rossastra un po più scura mentre in questo caso l'effetto è proprio di un bellissimo biondo albicocca perché perché io ho utilizzato lo schiarente ossigeno rivelatore a 30 volumi la caratteristica di questa colorazione è che arricchita aioli e si percepisce subito altra caratteristica che questa va utilizzata soltanto col suo ossigeno rivelatore eccolo qui in questo caso ho scelto quello a 30 volumi ma c'è anche a 10 o a 20 io volevo mantenere il chiaro albicocca quindi ho scelto a 30 il dosaggio è uno uno ovvero per il ritocco per 40 ml di prodotto dovete utilizzare 40 ml di ossigeno rivelatore le prime impressioni sono assolutamente di un ossigeno rivelatore molto denso come se fosse quasi una crema una crema idratante per il viso e proprio vi volevo preannunciare che la componente di oli idratanti si avverte subito perché perché il prodotto è molto denso perché non cola si fissa benissimo nella cute pur non rovinando il capello e non bruciandolo subito non avverti la pettina la pettinabilità del capello nel momento in cui tu risciacqui io risciacquato dopo 25 minuti ecco qui che la colorazione libera tutti gli oli nutritivi e proprio per questo vi sconsiglio di utilizzare balsami o maschere in aggiunta perché la colorazione appunto idrata da sola e quindi non c'è bisogno di altri prodotti se non volete far ingrassare il capello perché veramente oleosa ma veramente oleosa come colorazione detto questo copertura dei capelli bianchi buona dura due settimane dopodiché il colore tende a sbiadire al primo secondo shampoo molto molto facilmente però posso dire a discapito che con una buona maschera glossi o comunque dei trattamenti riparatori del colore potete anche tirare fino a tre settimane per quanto riguarda la copertura dei bianchi ovviamente essendo una tinta senza ammoniaca nel momento in cui sbiadisce la prima cosa che si vedono sono i filini bianchi e soprattutto se non ha preso bene il colore ma è raro che non prenda bene il colore proprio per la densità perché veramente c'è viene assorbito da tutto il capello non è che cola viene proprio assorbito dal capello io non ho avuto bisogno veramente di altro e quindi in sostanza io sono soddisfatta molto soddisfatta della performance di questa colorazione certo non è una piega da parrucchiere ma ce la possiamo pure perdonare considerando il fatto che c'è caldo e che quindi io metto spesso il cerchietto se non l'ho messo subito è perché volevo farvi vedere proprio l'effetto della della tinta appena fatta è una tinta che vi consiglio se non volete prodotti aggressivi non avete paura di appunto rifarlo ogni due settimane non avete anche la pigrizia di non volerlo rifare ogni due settimane è una tinta assolutamente garantita soprattutto per perché è un dosaggio facile si mescola bene si miscela bene il colore con l'ossigeno rivelatore io avevo paura che mi venisse più scuro invece non è venuto assolutamente scuro io poi l'ho emulsionato nelle lunghezze e ha preso benissimo anche dietro lo posso assolutamente affermare quindi una tinta ottima che mi ha confermato quanto questa linea in oa fosse soddisfacente lo ricomprerò assolutamente sì nel momento in cui ho capito che con questa io faccio il colore in sicurezza senza rovinarmelo assolutamente lo riprenderò ed è la stessa colorazione io spero di essere stata utile silvia cacioli che si fa anche il colore a casa le mando un bacione e spero di averle dato un buon consiglio per quando vale forniture per parpieri buona giornata e alla prossima ciao